Sul campo neutro di Troina, nella sesta giornata del campionato femminile di pallavolo di Serie D, la NAF Nicosia subisce la terza sconfitta stagionale contro il volley Palermo, seconda forza del campionato. Per la NAF doveva essere l'esordio casalingo in campionato, dopo le prime cinque partite giocate fuori casa, ma per i lavori di ristrutturazione dello Stefano Lamotta, la squadra guidata dal coach Salvatore D'Amico ha dovuto affrontare le quotate avversari in campo neutro, perdendo per 0-3. Non è stata una netta sconfitta nonostante i tre set persi, la NAF ha combattuto punto su punto e non ha reso la vita facile alle avversarie, il primo set è stato perso per 21-25, nel secondo dopo una bella rimonta la NAF sfiora la vittoria ma perde il set per un soffio con risultato di 26-24, anche il terzo set solo giudicano le ospiti del volley Palermo con il risultato di 18-25. Con questa vittoria il volley Palermo agguanta momentaneamente la testa della classifica con 15 punti, mentre la NAF Nicosia rimane ferma a 9 punti. Sabato prossimo la NAF Nicosia giocherà in casa, presumibilmente nella nuova struttura dello Stefano Lamotta ed affronterà la capolista del girone, città di Ficarazzi. Sì.